E ciao a tutti, oggi giocheremo a GTA V insieme a Gaetano, saluta! Ciao! Oggi abbiamo messo una distrazione per arrivare qua, in questa parte della mappa, che ogni volta se andiamo a fare tipo un incidente, andiamo a scantarci contro un palo per esempio, dobbiamo cambiare auto, ok? Sei pronto tu? Ok, sì, io sono prontissima! Uno, due, tre, via! Ma è mia una gara! È una gara? Eh sì, è una gara! Eh ma tu c'hai la macchina più veloce della mia, ovvio che vinci! Oh, se andiamo a scantarci, cambia auto! No, non vale così! Può aver poco, sto andando a schientarmi! Anch'io tipo, no, mi devi aspettare, hai capito? No, no, c'hai una gara! Non ti aspettare! Oh, ma no, come faccio a vincere, vincere, c'è una macchina di 400 km orari! Non vale, non vale così! Come faccio a vincere! Andiamo! Sperando che non vado a toccare contro uno, sperando! Sì, questa macchina va troppo veloce, per questo! Oh, ho scelto che... Io devo cambiare macchina! Eh, pure io! Eh, cambialo! Questa, questa! Slevate! Eh, vengono 5 km! Eh, me sei! No, ma questo mi vuole picchiare! No, lo so, aspetta, mi devi aspettare perché questo mi vuole picchiare! Metti dell'arma in mano! È per uno sparare, no! Ah, no, l'ho ucciso! Mi devi aspettare, aspetta! Ho fatto un incidente! Sono andato addosso a lui! Eh, devi cambiare! Eh, lo so! Scendo! Ecco qua! Che macchina lenta! Che c'è arrivato! Mi ha preso una macchina lentissima! Voi c'era mia, è veloce un pochino! Se no mi chiamo la mia comoda! No, è un vale! Quella! Madonna, mi sono andato a schiantare! Mi può! Manca 6 km precisi! Comunque c'è un'altra mia macchina un pochino spaccata perché quello già me l'aveva spaccata prima, capito? Eh, però di, cambierà auto! No, ma lui me l'aveva scappata! Ma che c'entra? Scappata! Spaccata! Eh, ma non significa niente! Vabbè! Comunque la mia macchina va piantata! No, ma questa la 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 trovava! Eh, wow, che bruttigine ti ho fatto! Sono andato a tutto un palo! Ok, aspettiamo un'auto che viene! Oddio, sono sottosto al muro! Si è sfasciata proprio! Hey, tu smart! Vedi qua! Che c'è auto! Comunque tu dove stavi a capire? Questa! Vubiti! Che io sto andando al traguardo! Eh, ma questo è femmine, mi sa che... C'ho la pula! Eh, chiama l'essere! Boh, ma questa corre, ma questa corre, ma questa corre! Sperando che non mi superi! Eh, ho fatto pure un incidente, bello! C'è la pula a tutti! No, non ce l'ho! Sono morto! Dodo! No, perché sono scelta dove c'è il palo, per questo... Ok. Ma, 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 mostra sempre più avanti di me! Aspettiamo un'auto! No, ovviamente sono andato indietro! Sono tornato! Dove stai tu? Eh, io sto a 5 km! A me 3 km e 65! Ma, va buono, ma ci credo, tu ci avevi una macchina all'inizio che era Lamborghini! Era l'Audi, prova! Eh, buono, ma io sovevo una macchina che è la meglio la smart! Comunque è una macchina che va l'intento! Eh, ho fatto l'incidente! Mi ha fatto pure l'incidente, è bello! Oh, che... Questa! Aghia! Ma come tu scegli le auto? Ah, sì! Ma è l'importante che vado avanti? Oh, di cosa vado alla sua macchina? Ok, sta macchina che non c'era l'intero... Andiamo! Però c'è una tizia che non si leva! Andiamo a vincere, serio! Dai, andiamoci credendo, non vale così! Eh, ho fatto un altro altro incidente! Sono andato in mezzo alla... Dalla la doppolenta a sta macchina! Comunque! Oh, io sta roba sulla macchina lente! Pure in mezzo scalzata! Oh, ma mai nessun... Qua nessuna macchina fa... Eh, pass... Eh, prendo il camper! Eh, dovevo continuare avanti, mica devo spettare l'altro... Eh, eh, godo! Camper! Camper! Eh, sono un camper! Eh, come va lento! Eh, pure la mia macchina! Oh, se trovo una macchina non posso nemmeno cambiarla! Questo è un problema anche! Dai, però sto camminando! Sta correndo! A me si distruttano la macchina! Non trovo più nessuna macchina! Non prendi una macchina a casa! Ma valgono le moto, vero? Sì, sì! Eh, è vero di fare attenzione non andare... a schiantarti! Eh, che ho trovato un'auto! Come fare l'incidente, Sam? Manca solo un chilometro a me! Vai, camper! Sei tutti noi! Oh, ma io stavo... No, non trovo un'auto! Vai, camper! Vai, camper! Vengo con l'amore! Vai, camper! Vedo fare, sono una via dritta! Sono arrivato! Eh, ho fatto l'incidente! Wow! camper! Fermo, fermo! oh, ma... Eh, comunque sono messo male anch'io, eh! fermo 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 meno male meno male ma così piano salto ma non so cosa faccio? c'è una cosa più difficile vado qua nella terra così se vado a schientarmi ok voglio fare tutte le cose semplice voglio fare una cosa difficile voglio fare qua pure è stretta la mia ma hai fatto l'incidente però è meglio ok aspettiamo con l'auto tu comunque dove stai? sono un pochettino di vicino un pochettino? mi mancano mi mancano 600 km ma dove sono andato al casino? no non sono andato al casino no il ping dov'è? ma come? il ping dov'è? dove l'hai messo il ping? perché l'hai tolto? no dove sono andato? dove sono andato? devo andare tipo mi vedi a me io? vedi dove sto io? no metti la mamma eh bravo ti devi fermare eh mi sto fermato io eh si ti vedo eh la c'è tipo vicino a me c'è tipo un supermercato la devo andare eh si però non vale eh si però non vale mi puoi aspettare vabbè mancano 2 km dimmi che tu vai in quella tua parte della strada ma cosa cosa faccio? infatti ci sto andando cosa cosa faccio io? no io cosa faccio? no vengo da te no sto vando io ecco ti vedo ma è stato da te ecco ti vedo vado dritto io ma aspetta io voglio vedere la mia moto se passi a fianco tu ti butto per l'aria ti piace la moto eh? corri no romega non faccio questa cosa no per schiantarti dai che vinco ho vinto eh però questo qua questa cosa te la meriti però eh no la moto ok ho vinto che tanno purtroppo che sono andato vicino guarda che era mia la moto eh ah scusa vabbè purtroppo che siamo che sono andato io da lui comunque che squadra ho vinto io la gara comunque noi ci vediamo da un prossimo e l'ultimo video aspetta aspetta non salutare ai ragazzi non sai usare e che cosa? dobbiamo farlo guarda guarda ragazzi no guardate una cosa no fermo ok fermo stai fermo non ti voglio picchiare ho dato una cosa ragazzi bella guardate questo l'accetta tengo eh facciamo un fight un fight no no niente accetta sono appugni sono appugni ok ma non vale con l'accetta vabbè noi ci vediamo al prossimo video no 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 ciao 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 Grazie a tutti.